In tantissimi ieri, approfittando del bel tempo, hanno deciso di trascorrere il primo maggio nelle località marittime della provincia eblea. Città deserte e frazioni balneari affollate. Questa la cartolina di quanto si è visto ieri a Modica, Pozzallo, Ragusa e Vittoria. Ma è proprio a Marina di Ragusa che si è registrato il maggior numero di affluenze, con un lungo mare letteralmente preso dal salto dalle tante famiglie ragusane che hanno già dato una prima sbirciata all'estate ormai tanta attesa. Come sempre è immancabile la classica passeggiata dal porto turisti a Piazza Malta, principale luogo di ritrovo così come accade ormai da diversi anni, proprio l'area destinata al porto turistico, dove i giovani hanno trascorso qualche ora giocando a pallone, mentre i più grandi si godevano la vista del mare tra relax, aperitivi e musica dal vivo. Un fiume di persone spezzato anche da qualche scena di alcuni temerari già in costume, pronti per il primo bagno della stagione. I modicani invece, divisi tra il lungomare e il pietrenere di Pozzallo e il passeggio a Marina di Modica, in entrambe le location marittime si è registrato un altro numero di presenze, soprattutto nell'arco dell'intera mattinata. Ma passeggiati in famiglia a parte, il primo maggio resta per tutti un'occasione per riflettere sul tema del lavoro, che quest'anno stride con il nuovo reddito di cittadinanza e con le migliaia di richieste provenienti da ogni dove. La GGL ha deciso, per il 2019, di trascorrere a Santa Croce Camerina, dove nel pomeriggio ha tenuto un comizio in Piazza Vittorio Emanuele. Proprio a Santa Croce, teatro di fenomeni di caporalato, lavoro sottopagato e spesso in nero, questi i punti dove si è concentrata l'attenzione del sindacato in prima linea, proprio contro lo sfruttamento dei lavoratori, spesso costretti ad accettare mansioni disumane pur di guadagnare quel poco che basta per vivere. Sulla festa dei lavoratori, anche articolo 1, che ha festeggiato la ricorrenza in un momento in cui il lavoro, soprattutto nella nostra regione, è una drammatica assenza. Alla disoccupazione, in particolare quella giovanile, si sommano le morti sul lavoro. Infatti, sono oltre 100 gli incidenti mortali sul lavoro, nei primi mesi del 2019, nel nostro Paese con una frequenza di quasi 1 al giorno. Un dato che deve allarmare e non lasciare indifferenti. Anche in terra eblea, ha sottolineato il senatore Gianni Battaglia, segretario provinciale di articolo 1, si verificano fenomeni di lavoro nero e irregolare.